Ebbene ha vinto l'Italia nei mondiali di calcio femminile contro l'Australia per due reti a uno. Le Azzurri hanno battuto la famosa squadra che si trova ovviamente dall'altra parte del mondo. I gol nel primo tempo al 22esimo minuto di Sanker in ribattuta sul suo rigore rispito da Laura Giuliani. Il secondo tempo all'undicesimo e al cinquantesimo di Bonansea. E' stata una partita piacevole devo dire, non sono mancati i colpi di scena. L'Australia ha schierato uno schieramento formato da un modulo di 4-1-4-1. L'Italia invece ha schierato un 4-3-1-2. Autogol sfiorato in alcuni casi. Un saluto caro a voi tutti. E' stata una partita che si tratta di un'altra parte del mondo.